Guarda Gianluca, io in questo momento senza neanche saperlo ti faccio vedere cosa succede. In questo momento stanno portando, credo sia Guardia di Finanza, sta portando con un gommone un altro gruppo di persone che sono state soccorse oggi. Stamattina, proprio durante l'arrivo del prefetto Valenti, qui a Lampedusa, il suo primo passaggio in uno dei punti caldi, ovvero Lampedusa, il primo punto più caldo vicino le coste del Nord Africa, c'era stato già un altro sbarco, 40 persone, il prefetto era presente proprio durante lo sbarco, poi è andato in hotspot. In questo momento stanno arrivando, approdando altre persone, altre vite umane che comunque andranno all'interno di questo hotspot che ritorna ancora una volta in sofferenza nonostante le 250 persone trasferite questa mattina. e possono capitare settimane in cui, come questa, il traghetto non ce la fa ad arrivare perché c'è stato brutto tempo e quindi rimangono a lungo in un hotspot che non può trattenere tante persone, non ha proprio la struttura per poterlo fare. Abbiamo assistito anche a momenti di tensione, abbiamo assistito veramente a due settimane molto difficili per chi ci lavora all'interno ma soprattutto per le persone che sono all'interno. Ci sono ancora più di 100 bambini, donne e bambini lì dentro e stiamo parlando di un numero di persone vulnerabili molto alto. Anche per questo il prefetto ha voluto con sé oggi anche i vertici di ONHCR, di Save the Children, della Croce Rossa che andrà a monitorare proprio quello che accade all'interno della struttura. Questa è insomma una situazione non facile ma ha garantito che darà anche sostegno anche agli isolani e è andato infatti anche a parlare con il sindaco Mannino per garantire un punto anche sanitario. Insomma non è facile gestire l'immigrazione qui a Lampedusa. Ecco non è facile gestire l'immigrazione. Ecco non è facile gestire l'immigrazione.